Storia, arte, cultura, gastronomia, tutti gli appuntamenti di Weekend a Scoprire. Venerdì 25 e sabato 26 novembre ad Alatri, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, appuntamento con I volti della violenza, arte e parole. Sabato 26 novembre ad Isola dell'Iri alle 14.30 presso il Bosco Comunale, la Proloco di Isola dell'Iri organizza la passeggiata nel Bosco aperta a tutti. A Fontanaliri, sabato 26 e domenica 27 novembre, appuntamento con la terza edizione della manifestazione Le Vie della Sulfatara, percorso enogastronomico e tanta musica. Domenica 27 novembre a Pofi, dalle 11 alle 22, in Via delle Piagge, nel Centro Storico, appuntamento con la Sagra della Patata, un percorso gastronomico con specialità a base di patate. Ad Aquino alle 15, in Piazzale Martiri del Terrorismo, appuntamento con il Mercatino di Natale, con prodotti tipici, intrattenimento per adulti e bambini ed accensione delle luminarie. A Fontenuova, in provincia di Roma, dalle 8 alle 20, in Via Numentana, chilometro 18, si svolgerà l'evento aspettando il Natale, con profumi e sapori. Mercatino degli artigiani, intrattenimento per i più piccoli, stand gastronomici ed artisti di strada. A Grotta Ferrata, in provincia di Roma, dalle 11 alle 19, presso il Paccotella Villa Grazioli, in Via Umberto Pavoni, si terrà l'evento Assaggia le Marche, una mostra a mercato solidale per aiutare le zone del Maceratese colpite dal terremoto.